buonasera siete con il canale pratica sartoriale alla moda vi ricordiamo che i nostri video escono tre volte a settimana oggi con voi parleremo del materiale termoadesivo perché ci sono tantissime domande su questo tema ci chiedete non stop come scegliere la tela adesiva allora la risposta che non esiste una regola ci si arriva con l'esperienza è un processo e non esiste una formula ci si arriva provando e scellendo quello che più è adatto al vostro capo è veramente una cosa di esperienza e non di regole per aiutarvi in questo processo ho selezionato diversi tessuti e andrò ad adesivarli con il materiale adesivo differente per farvi vedere risultati differenti il mio obiettivo è dimostrarvi quanto è importante non smettere mai di provare di cercare ed sperimentare non semplicemente seguire ciecamente dei consigli anche se sono consigli di professionisti ma basarsi sempre sulla propria esperienza perché anche noi che siamo professionisti e vediamo un consiglio non possiamo sapere quale risultato vi aspettate magari volete ottenere un altro effetto e il nostro consiglio non fa il caso vostro per prima cosa abbiamo materiale termoadesivo di diverso peso su ogni pezzetto c'è scritto il peso anche nel negozio per ogni particolare specifico del peso ad esempio esiste termoadesivo di 15 grammi questo significa che il metro quadro di questo materiale pesa 15 grammi poi abbiamo quello di 20 grammi e leggermente più spesso ma immaginate che su un metro quadro la differenza di 5 grammi è praticamente impercettibile e nonostante questo si vede che è più spesso come materiale la tela adesiva di 20 grammi viene prodotta in colori diversi scegliete quello che vi serve poi abbiamo quelli di 30 e di 35 grammi per abiti tipo giacca gona gilet l'adesivo di 30 grammi che usiamo noi è una tela leggermente elastica nella trama e quasi ferma sul dritto filo ma non ha un aspetto secco come la carta vedete leggermente così e quasi ferma in dritto filo e guardate tiro leggermente e la tela è muovibile si tira leggermente questo è un ottimo materiale che non permetterà al vostro capo di avere un aspetto rigido come un foglio di carta questa invece è la tela adesiva di 35 grammi ora ve lo faccio vedere questa qua è quella da 35 gradi vedete non si può dire che è elastica ma si muove si lascia tirare anche se molto poco ma non è ferma come un foglio di carta quindi abbiamo visto 15 20 30 e 35 grammi dopo andremo ad adesivare diversi tessuti con questi materiali il secondo gruppo sono le telle adesive di 40 e di 63 grammi con quella di 40 grammi molto spesso si adesivano i capotti è una tela leggera 40 grammi al metro quadro ma comunque è in grado di dare al tessuto un aspetto bello sostenuto noi la usiamo molto spesso per i capotti la tela di 63 grammi invece di solito si usa per fare i rever quando abbiamo bisogno di rigidire un dettaglio e ottenere un effetto molto sostenuto una forma molto stabile al capo oppure da una parte del capo ad esempio se abbiamo una giacca adesivata con la teletta di 30 35 grammi possiamo usare quella di 63 per adesivare la paramontura del river ecco vedete come è fatta da una parte c'è la cola resina che in questo caso è di più e dall'altra parte ha un aspetto morbido e settoso in generale come vedete anche questa è leggermente movibile anche se di peso più grandi tutte devono avere questa qualità non importa il peso devono tirarsi leggermente non devono essere rigide come un foglio di carta oltre ai materiali adesivi di peso 15 20 30 35 40 63 esistono anche gli adesivi per rinforzo pesante coli e corsetti ecco qui abbiamo la tela adesiva per fare i corsetti sono tele apposta che rigidiscono molto il tessuto è rigido e nello stesso tempo leggero con le nuove tecnologie il materiale rimane leggero nonostante la grande capacità di rigidire il tessuto ecco è leggerissimo il peso è di 100 grammi al metro quadro immaginate per un corpino lungo 40 centimetri la tela utilizzata pesa 50 grammi cioè il capo rimane molto leggero in questo caso la teletta è completamente immobile e se la tiriamo vedete non si tira assolutamente andiamo avanti la teletta per adesivare i coli e leggerissima ed è di cotone da questo materiale ci si aspetta di poter sopravvivere e delle manipolazioni più invasive e anche fatte con una certa frequenza come ad esempio lavasecco e stiramenti a temperatura alta senza che si stacchi dal tessuto il produttore deve garantire che un materiale resistente e valido a lungo termine è importante come vedete è una teletta molto sottile e leggera ma in grado di tenere benissimo la forma dei coli e colletti e o polsini è molto importante chiedere la garanzia su questo tipo di termo adesivo è molto leggera ma molto sostenuta adesso andiamo avanti con le prove prendiamo la tela di 15 grammi guardate quanto è leggera vedete è leggerissima è proprio leggera leggera con questo pezzetto vado ad adesivare il chiffon anzi il nero lo metto sul battiste mentre per il chiffon tale un pezzetto bianco vedete è un materiale sottilissimo e leggerissimo va benissimo per chiffon e battisti a volte viene utilizzata anche per mantenere la forma degli angoli di alcuni dettagli nei capi di setta leggera è sempre utile che avere di questo materiale in casa 15 grammi e una tela che dovete avere in casa assolutamente vediamo adesso il risultato immaginiamo che dobbiamo adesivare un orlo di una gona di chiffon oppure un polsino o il carré di una camicia se al metro quadro pesa 15 grammi il mio capo si è presentito di quanto di 3 grammi come vedete un materiale leggerissimo ma che aiuta tanto a tenere la forma penso che per il chiffon 15 grammi e la tela giusta 20 grammi sarebbe già pesante secondo me ecco qui invece il mio pezzetto di cotone battiste era leggero ed è rimasto altrettanto leggero anche dopo averlo adesivato ma capace di mantenere una bella forma vedete è molto molto leggero non è cambiato assolutamente però ha già una bella forma potete prendere diversi pezzetti e provare e sentire con le vostre mani la differenza adesso vi parlo di come sento io i vari materiali ma quando siete voi a provare starete in grado di capire le differenze saprete se potete sostituire un 15 grammi con un 20 potete prendere tutti i tessuti e provare per capire bene l'effetto ad esempio per il colore le telette di 15 grammi esistono solo in bianco e nero mentre quella di 20 grammi esiste in più colori saprete quindi se per un coletto di chiffon rosso potete usare la teletta di 20 grammi se posso dare un consiglio per scifone battiste io consiglio i 15 grammi poi siete voi a decidere a seconda del caso concreto del risultato che volete ottenere questo è un mio consiglio 15 grammi per me va benissimo adesso vediamo come si comporta la teletta di 20 grammi sulla setta taglio il mio tessuto in due e su un pezzetto provo la tela di 15 grammi mentre vedrete le differenze anche voi faccio 15 qui e 20 qui voglio che voi capiate bene come vedete c'è una minima differenza visiva una è più leggera e trasparente dell'altra le telette adesive di oggi sono molto leggere fatte molto bene e non rovinano il capo ecco immaginiamo che questa sarà il sormonto di una camicia su quale poi si faranno le asole come vedete tiene bene la forma ma non appesantisce quello che vorrei che vi rimanga dopo tutte queste prove e che il capo deve rimanere leggero la teletta adesiva non deve appesantirlo ecco i 20 grammi per un carré un polsino certo si può utilizzare anche quella da 15 da voi decidere quale risultato vi piace di più abbiamo adesivato l'esempio con 15 grammi e l'altro con 20 per la seta non consiglierei altro se dobbiamo fare un colletto un polsino con la seta vediamo che il risultato avremo se usiamo il termo adesivo fatto apposta per questi dettagli per polsini e coli vediamo adesso se davvero abbiamo bisogno della teletta apposta per i coli oppure no oppure me lo usare quella di 15 o 20 grammi io so la risposta ma la faccio per la nostra ricerca perché possiate vedere bene come vedete tiene una forma molto bella se dobbiamo fare una camicia classica con il colletto tipo da uomo questo materiale è molto adatto ma è possibile usare anche quello da 20 grammi anche questo sta a voi a decidere ecco le nostre prove come vedete tutte le varianti tengono bene la forma e non appesantiscono scegliete voi quello che fa a caso vostro andiamo avanti tengo qui ancora l'adesivo per coletti perché ci servirà anche per il cotone adesso vediamo con che adesiviamo il crepe mettiamo che state cucendo una giacca e volete adesivare il davanti facciamo adesso un esperimento per con una teletta di 20 grammi e una di 30 perché 35 grammi già troppo non consiglio per il crepe adesiviamo il nostro tessuto ecco 30 grammi e bello sostenuto va bene per una giacca e nello stesso tempo è leggero 20 grammi per una giacca è un po poco quindi per una giacca che deve tenere bene la forma consiglio 30 grammi ecco vedete si sente una bella struttura vedete che forma che ha si sente una bella struttura andiamo avanti qui abbiamo vari tessuti per abiti di due pezzi giacca con gona ad esempio non di scifono di seta abbiamo vari tessuti un cashmere double face non si adesiva semplicemente si apre i bordi si cuciono a mano verso l'interno dell'apertura per me i tessuti double face non vanno adesivati perché rovinarli sono fatti per essere visti da entrambe le parti io mi rifiuto ad esivarli ecco qui abbiamo tre diversi tipi di tessuti adatti per giacca gona o pantalone ad esempio prendo la mia teletta da 30 grammi secondo me questo peso ideale per le giacche per una bellissima giacca moderna ad esempio non appesantisce da una bella forma vedete com'è la parte non adesivata e quella adesivata si vede la differenza sarà molto facile stirare dal dritto fare diversi dettagli tasche tali eccetera la teletta da 30 grammi in questo caso è perfetta vedete il risultato è perfetto ma anche in questo caso la decisione è vostra magari a voi piace un risultato più sostenuto però io la trovo veramente perfetta quella da 30 grammi se voi volete un risultato più sostenuto potete usare quella da 40 grammi come ho sempre detto 30 grammi per me è perfetta ma siete voi che dovete decidere se a voi piace più sostenuto prendete quella da 40 grammi proviamo adesso con la teletta di 40 grammi è già più adatta per un capotto secondo me ma va benissimo anche per una giacca di tessuto più pesante questo è 40 grammi secondo me è più adatta per capotti ecco come si presenta va benissimo anche per il cinturino di una gona in generale per le giacche consiglio la teletta di 30 35 e 40 grammi a seconda del peso del tessuto ad esempio per un tessuto chanel facciamo la prova con la teletta di 30 grammi come sapete la giacca chanel viene adesivata interamente c'è stato tanto rumore in internet se una cosa giusta da fare o no visto che la giacca di coco chanel è famosa per essere fatta interamente a mano senza usare la tela adesiva e quindi il materiale di sostene veniva cucito a mano di solito si utilizzava l'organza ma non dimentichiamo che ai tempi di madame coco chanel noi non esistevano i materiali di oggi con questa qualità immaginate di dover usare l'organza come materiale per adesivare una giacca chanel e di doverla cucire a mano se non avete l'esperienza delle sarte dei laboratori chanel il risultato sarebbe molto pesante secondo me anche madame coco avrebbe utilizzato con grande piacere dei materiali di questa qualità se ci fossero al suo tempo e quando mi fanno certe osservazioni io rispondo sempre bene allora perché non scendiamo dalle macchine e andiamo tutti con le carrozze è la stessa cosa guardate quanto è morbido e leggero e nello stesso tempo è capace di tenere una bella forma 30 grammi vanno benissimo se si sceglie anche la giusta pesantezza della fodera e si fanno poche cuciture il risultato è una bellissima giacca leggera ora vi faccio vedere l'effetto adesivato sul chanel vedete quanto è leggero vedete quanto è morbido per me 30 grammi sono perfetti per un tessuto chanel rispetta la sua leggerezza rimane bello morbido non appesantisce ma è sostenuta quello che voglio dirvi è imparare a sentire tutto con le vostre mani sempre andate nel negozio prendete campioni delle varie tele adesive e diversi tessuti tornate a casa e provate provate fate la vostra ricerca sentite con le vostre mani e solo dopo scegliete quello che vi piace di più non dovete mai andare in negozio prendere la prima teletta adesiva che capita anche se vi consigliate adesivare il vostro capo senza fare prima una prova prima fate delle prove e poi se siete convinti andate avanti con il capo è capitate anche a noi di sbagliare non tanto tempo fa abbiamo avuto un caso le ragazze avevano scelto una teletta che non era proprio adatta sul tessuto non era male ma a capo pronta facevo l'effetto carta ecco vedete anche sull'altro tessuto è molto bello questo tipo di tele usate sul tessuto chanel vanno benissimo per adesivare l'intera gona il capo tiene una bella forma a lungo anche se ci si siede spesso non cede noi lo facciamo molto spesso adesivare l'intera gona con del materiale leggero per garantire una bella forma il capo guadagna 30 grammi a metro quadro non si sente nemmeno ma si ottene un bellissimo risultato in termini di forma bene abbiamo visto diversi tessuti scifon setta crepe vari tessuti per giacche per i capotti usiamo di solito 40 grammi 30 a 35 grammi in generale dipende molto dal gusto individuale 63 grammi come abbiamo detto vanno bene per il revet ecco vedete cosa vuol dire 63 grammi ad esempio se fate un capotto e lo adesivate interamente con 30 grammi potete usare i 63 grammi per il revet intendo la paramontura del revet o per vari dettagli allora il capotto avrà una forma bella sostenuta vedete com'è immaginate il revet doppio con 63 grammi sia interno che esterno è troppo pesante per questo motivo la parte del capotto davanti si adesiva con tenta mentre la paramontura con 63 la tela di 63 grammi va benissimo anche per i cinturini di gone e pantalone di tessuti pesanti e molto sostenuti rimane di fare la prova con il cotone avete capito 63 grammi si usa per fare paramonture cinturini e comunque tessuti molto sostenuti ora facciamo la prova con il cotone prendiamo l'adesivo per coli e coletti e vediamo il risultato per una camicetta tessuto di cotone e adesivo per coli si sposano benissimo si ottiene un bellissimo risultato per coli i polsini i sormonti la cosa più importante è non mettere la parte della colla in su che poi vi tocca pulire il ferro da stiro vedete com'è diventato morbido e leggero ma guardate come tiene la forma un polsino fatto così è perfetto e non si rovinerà anche dopo tanti stiri per questo ripeto provate cercate toccate sentite con le vostre mani sempre è meglio provare in prima persona che sentire 10 consigli inclusi i nostri l'esperienza personale non ha prezzo quindi spero che vi ho fatto capire che è meglio capire e provare soprattutto capire anche la qualità della tela adesiva qui abbiamo due pezzi di jacquard e lo stesso principio come i tessuti per le giacche scelette a base del peso bene oggi abbiamo visto diverse teleadesive e abbiamo fatto tante prove mi raccomando dovete sempre usare teleadesive di qualità cercate informatevi sui produttori sulla qualità sul peso non smettete di fare prove ogni volta per assicurarsi un bel risultato prendete un pezzetto di stoffa adesivatelo andate sotto il rubinetto bagnate bene stropicciatelo per asciuga poi asciugate stirate e fate le vostre conclusioni e solo dopo aver fatto questi esperimenti potete lavorare tranquilli con questo materiale e ripeto ancora una volta nessun consiglio è migliore della vostra esperienza personale oggi la nostra lezione era dedicata ai materiali adesivi perché non è importante solo saper cucire o modellare un capo ma anche conoscere bene i materiali di supporto che vanno usati per ottenere un risultato finale eccellente se vi è piaciuto questo video con tante altre novità grazie 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 grazie